Oggi venerdì 30 ottobre, la situazione è rapidamente in evoluzione, come succede in questi ultimi giorni. Siamo passati nelle ultime tre settimane da 5 a 22 a 50 pazienti covid ricoverati, ieri sera erano 107. Stamattina sono ancora modificati, perché nella notte purtroppo abbiamo avuto alcuni decessi e ci sono stati dei nuovi ricoveri. Soprattutto stiamo osservando in questi giorni il massiccio afflusso di pazienti dalla città di Alessandria e dall'Interland rispetto alla prima volta, che erano zone tutto sommato risparmiate e da ieri purtroppo la ripresa di pazienti che provengono dalle case di riposo. Credo che ormai ci siano quasi una ventina di pazienti che provengono dalle case di riposo.